Abbiamo appena saputo che a ridosso del Natale chiuderanno altre saracinesche nel nostro centro storico il che è una grave sconfitta per tutti noi e vorremmo veramente sapere che intenzioni ha questa amministrazione per rilanciare non solo il centro storico che il cuore pulsante della nostra città ma anche la parte commerciale del lungomare. Inoltre come biglietto da visita abbiamo tanti capannoni dismessi anche nella nostra zona artigianale ed industriale questo comincia ad essere un problema serio quindi noi abbiamo protocollato un'interpellanza proprio per essere da stimolo a questa amministrazione nel nostro programma elettorale per le scorse amministrative avevamo individuato tutta una serie di incentivi fiscali per le nuove attività e nuovi negozi di prossimità eccetera. Abbiamo visto che Pesaro è andato anche lui in questa direzione ampliando gli incentivi che erano già previsti quindi vorremmo sapere nel nostro sindaco che intenzioni ha. Quali sono secondo voi le leve primarie da muovere subito per invertire questa tendenza? Innanzitutto bisogna fare in modo che si aprano nuove attività e cercare di far mantenere quelle già esistenti naturalmente quindi secondo noi è da prevedere degli alleggerimenti per quanto riguarda la Tari a tutti visto che Aset ha degli utili molto alti e potrebbero servire quantomeno per abbassare questa tariffa e poi servirebbe anche rendere gratuiti i parcheggi di prossimità al centro storico per gli acquirenti insomma dei negozi del centro ma anche della zona mare insomma delle zone sensibili e poi naturalmente lavorare per abbassare le tariffe che ne so per il suolo pubblico o la Tasi per tutte le nuove attività quindi anche per quelle imprenditoriali site all'interno del nostro comune. Servirebbe anche un'azione di attrattiva non solo il mercato interno anche il flusso esterno importante? Assolutamente però eventi di qualità non tanti piccoli eventi di basso richiamo e poi soprattutto essere propositivi da un punto di vista della comunicazione cioè il centro storico adesso ha alcuni negozi che fanno fronte alla comunicazione e alla promozione della propria attività in solitaria mentre abbiamo dei grandi centri commerciali che invece fanno questa comunicazione tutti insieme abbattendo i costi quindi sarebbe da pensare e ripensare anche questo oltre al fatto che adesso ci aspettiamo nel nuovo PRG veramente un'azione di contenimento di questi centri di grande distribuzione perché insieme all'e-commerce sono le cause per il fatto che i nostri commercianti che hanno un ruolo sociale anche molto molto importante si sentano strozzati.